E finalmente oggi si vede, si vede il microfono, detto alla Emilio Fede, vi ricordate quel famoso episodio del disturbatore Paolini in uno dei suoi servizi al TG4? Togligli il microfono! Quindi poi te ce ne penso, non voglio dare di salle. E ogni volta che dico microfono poi alla fine mi esce fuori l'inflessione all'Emilio Fede, non ce posso fare niente. Allora, video con cadenza mensile sono i 10 prodotti labbra preferiti del mese. In questo caso del mese di gennaio, of course. Allora, partiamo con due Velour Liquid Lipstick di Jeffree Star. Due rossetti che hanno proprio caratteristiche totalmente diverse. Celebrity Skin è più liquido, un po' come lo standard dei Velour Liquid Lipstick di Jeffree Star. Mentre Masochist è molto molto più denso e ci mette una vita ad asciugare, una vita. Ma adesso ve ne parlo. Questo è Celebrity Skin, che poi vedrete anche asciutto. Ed è il mio nude da tutti i giorni. È sempre con me, lo porto sempre appresso. Se capita che le labbra le devo fare on the go, lui è quello che da parecchio tempo è sempre con me. Mentre Masochist, questa è stata la botta de colore del mese. La botta de colore del mese è molto più denso, molto più denso. Ci mette il doppio del tempo ad asciugare. Se ne vado a mettere di più nella parte in cui di più si sente e tende a sgretolarsi. Ha di buono che tinge le labbra, di buono tra virgolette. Nel senso che anche se vi si sgretola laddove ne avete messo di più, c'è comunque il colore sotto. Però ragazzi, la sensazione sulle labbra è pazzesca. Cioè, dopo un po' ve lo dovete togliere. Vi manda proprio ai pazzi. Bisogna essere proprio masochisti per quel giorno. Dico, oggi voglio essere masochista, indosso Masochist. Perché è terribile. Comunque è un bellissimo rosso fragola. Il colore è pazzesco. Infatti ogni tanto lo prendo e dico, no, ma perché tu devi stare là? Cerchiamo di trovare un compromesso. Infatti vado a mettere un... Lasciare, perché io metto praticamente tutte le mattine il burro cacao sotto. Ne lascio un po' di più, di modo che riesco a portarlo bene. Devo fare uno strato sottile. Se con uno strato sottile non riuscite a renderlo omogeneo, è la fine ragazze. Quindi o buona la prima o è un disastro. Però è bellissimo. Questo è quello che preferisco meno tra tutti i velour liquid lips. Ne ho diversi e nessuno fa come lui. Sono tutti più o meno come celebrity skin. Ed è un peccato. È veramente un peccato. Siamo a Zen di Nabla. Questa è la telecollezione natalizia. È stato sempre un regalo di Natale. Ho ricevuto solo prodotti labbra per Natale. Anche perché avevo le labbra nuove di zecca. E quindi chi mi conosce sa che è il mio periodo labbra. Ecco, diciamo così, Zen. Bellissimo pure lui. Non è celebrity skin. Qui può sembrare un pochino più scuro, un pochino più caldo. Però siamo lì. Ecco, siamo lì. Quando finirà celebrity skin e non l'avrò ricomprato in tempo, lui prenderà assolutamente il posto di celebrity skin. Ma se la gioca per rimpiazzare celebrity skin, Bow & Arrow degli Everlasting Liquid Lipstick di Kat Von D. Ho solo questo colore, quindi non vi so dire come si comportano gli altri. Mi piace tantissimo. Certo è un po' secco sulle labbra. Anche se è molto asciutto e tende un po' a segnare le labbra, lo porto che è una bellezza. Non mi dà fastidio quello che è soggettivo. Bow & Arrow è un marrone beige. Molto più deciso di celebrity skin. Molto più scuro anche. Però l'effetto sulle labbra è un po' la celebrity skin. Non vi so spiegare perché. Anche se sembrano due rossetti totalmente diversi. Una volta indossato questo sulle mie labbra è un po' più chiaro. Da swatch è decisamente più scuro di come poi è applicato sulle mie labbra. E però è bellissimo. Un altro rossetto liquido è questo Giordana Sweet Cream. Io ho solamente questo qua. Si chiama Cinnamon Toast ed è un marrone. Che applicato è così. Ma asciuga veramente molto molto più scuro di come è da bagnato. Ed è anche piuttosto freddo. Non ho capito perché l'hanno chiamato Cinnamon. Perché si è vero che da boccetta sembra caldo. Ma poi mi cambia totalmente sulle labbra. E diventa un marrone scuro freddo. Questa non ha né consistenza né troppo liquida né troppo densa. Non faccio fatica a riapplicarlo. Come per tutti quelli di cui non ho avuto nulla da dire finora. E mi piace molto. Mi piace molto. Se non fosse che poi diventa molto più scuro rispetto all'appena applicato. Ma fa niente. Comunque un bel colore. E questo qua. Si chiama Cinnamon Toast. Il kit closer di Nabla. Sempre edizione natalizia. Matita che è molto molto buona. Molto buona. Si fissa e dura tantissimo. E questo è il rossetto liquido. Fantastico. Fantastici entrambi. La matita resta veramente tanto. Pochino pochino meno rispetto alle creamy color di Kiko. Non siamo proprio lì. Ma ci si avvicinano molto. Ci si avvicinano veramente molto. Il Maybelline Superstay Matte Inking Lover. Colore bellissimo. Su di me rimane molto rosa. Ho visto da alcune ragazze che mi hanno mandato le foto. Che su di loro tira fuori un po' di grigio. Che dipende un po' dalla carnagione. Su di me rimane piuttosto rosa. Ho ritirato fuori un Lippy Sticks di Colourpop. Questo è un colore che trovate disponibile sul sito. Perché ne ho molti che sono a me. Non ci sono più. Il Colourpop è così. Si tira fuori dei colori. E poi li toglie da sotto al naso. Quando meno ve lo aspettate. È un matte. Ma come vedete è un matte veramente molto morbido e cremoso. Però non appena va via la parte cremosa. Si fissa bene. E eventualmente lo riapplico. Lo porta presso con me. Se c'è bisogno lo si riapplica. Un colore bellissimo. Un po' sulla scia di Amoros di MAC. Però con una forte componente più rosa. Per finire due rossetti di Mulac. Della collezione Womanly. Uno è Bambola e l'altro è Wilf. Io ho anche Sex Trainer. Ma non l'ho proprio pescato questo mese. Ho utilizzato solo questi due. Sex Trainer devo dire che non lo uso. Cioè non mi viene voglia di utilizzarlo tanto quanto questi due. E quindi se devo andare su uno dei due. Allora è vero che questi rossetti sono piuttosto duri nell'applicazione. Ma lo sono tutti i matte di Mulac. Cioè non è una cosa che mi ha sorpreso più di tanto. Quando insomma li ho avuti fra le mani. C'è noto di buono che siccome alcuni colori capitava che mi si sgretolassero un pochettino qui all'interno della mucosa durante il giorno. Questi non lo fanno. Questo è Wilf. E questo è Bambola. Diciamo sono fra i più facili da utilizzare. Però fanno uno strato sottile. Io non li sento proprio. Mi sembra proprio di non averli sulle labbra. Finché c'è la punta posso utilizzarli anche da solo. Nel momento in cui la punta andrà via un po' come fu per i Retromat di MAC. Che la formula si assomiglia molto. Dovrò comunque per forza contornare con una matita labbra. Perché poi non si può fare insomma. Però a me piacciono molto. Mi piace. Anche se sono difficili. Non scorrono. Non è un problema per me. Diciamo così. Perché il risultato poi dura tantissime ore. Non lo sento. Mi sembra proprio di non averli sulle labbra. E questi erano i miei dieci prodotti labbra preferiti del mese di gennaio. Ricapitolando Celebrity Skin di Jeffree Star. Masochist di Jeffree Star Velour Liquid Lipstick. Poi c'è Zen di Nabla. Qui c'è il Bow and Harrow di Kat Von D. Questo è il Giordana Cinnamon Toast. Il Closer Kit. Qui abbiamo il Maybelline Superstay Ink. Il Colourpop. Colourpop by Watch. E qui ci sono Bambola e Wilf. Fatemi sapere se anche voi li avete. E se si comportano come si comportano di me. Se si comportano male li bucketiamo. E basta. Io vi saluto un po' alla regina d'Inghilterra. Il famoso saluto della regina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.